eccoci qui di nuovo adesso stiamo preparando ragazzi il look da giorno si chiama fashion quindi spero che a voi piace ah ti piacciono gli occhiali anche se sono da vista anche se no li possiamo utilizzare anche così abbiamo scelto un look un po' più sportivo da giorno abbiamo detto che il colore dell'anno è il blu tutte le tonalità del blu abbiamo scelto questa camicia che va benissimo anche il giorno mi piace sempre di dare questo troppo di mettere almeno questa parte dentro così riusciamo a mettere in risalto anche i nostri bambini se li senti giusti? si ok perfetto e non poteva mancare la pelliccia che la puoi utilizzare come voi e la nostra borsina ecco qui il nostro look da giorno